Chi non ricorda Carosello? Quando è nato, era il 3 febbraio 1957, la tv era in bianco e nero, i tempi televisivi erano meno frenetici di oggi, il linguaggio, le musiche, i personaggi e le storie narrate forse più gentili, semplici e con alla base qualche insegnamento. Quanti bimbi, per almeno un paio di generazioni, sono andati a letto dopo Carosello. A questa mitica produzione della televisione italiana, Marco Melegaro, giornalista di Sky TG24, veronese d'origine e romano d'adozione, ha dedicato questo piccolo grande libro, Carosello, genio e pubblicità all'italiana. Perché hai deciso di scrivere Carosello? C'erano i 60 anni dall'inizio ai 40 dalla fine del programma e non volevo che questa ricorrenza passasse inosservata, quindi negli anni ho cercato di raccogliere elementi, informazioni per raccontare anche il paese in quei 20 anni lì. Anni 50, 60, 70, una vera e propria cavalcata nella storia quella raccontata da Melegaro. Dopo il conflitto mondiale gli italiani infatti avevano voglia di ricominciare. È il momento del boom economico, il cambiamento dei costumi, delle abitudini degli italiani. Una vera e propria inversione di rotta per arrivare alla modernità di oggi. Come siamo evoluti? In meglio o in peggio? Dipende, chiaramente c'era più attenzione pedagogica, era un tipo di televisione che infatti se vogliamo pensare la censura era spesso in azione per cambiare alcune pubblicità, alcuni messaggi che erano troppo poco in linea con i tempi. Erano i tempi che parliamo dal 57 al 77 della democrazia cristiana, Ettore Bernabèi, delle calze alle Kessler. Insomma c'erano tantissime censure anche impensabili oggigiorno. Non si poteva neanche dire avanti Cristo con tutto il bene che vogliamo ai nostri amici di Telepassi. Oggi la televisione è sicuramente cambiata, anche il modo di approcciare la televisione è cambiato, però in realtà noi viviamo della storia del passato, del nostro passato. Quella televisione là dal 57 in avanti fino al 77, il periodo proprio che tu hai descritto, è una televisione che ha fatto storia, che ci ha insegnato anche l'italiano. Sì, ha fatto storia perché chiaramente arrivava, la tv arriva nel 54, arrivavano i primi programmi, i primi sceneggiati, ricordiamo il varietà, l'importanza delle varietà, cito Studio 1 come titolo su tutti, ma troppi ce n'erano, si va fino a mille luci nel 74 e poi chiaramente la tv iniziava in quegli anni lì a decretare l'interesse delle persone, a lasciare le persone incollate al video. Carosello stesso aveva punte di 20 milioni di ascolto e andava in onda alle 20 e 50 ogni sera. Fu proprio una scuola di formazione per tantissimi artisti e ti dico anche perché, il motivo è che chiaramente bisognava un po' fare la tv all'inizio e poi c'era la necessità di fare dei mini film che precedessero il messaggio pubblicitario stesso, il cosiddetto codino e questo faceva sì che nelle serie di Caroselli che si mettevano in movimento bisognava sempre inventare slogan nuovi, sappiamolo, storie nuove, personaggi nuovi, personaggi nuovi, tormentoni nuovi, insomma un'Italia irripetibile che secondo me c'è ancora. Ecco tu da uomo della televisione, da persona che si occupa di comunicazione, che ne sa. Oggi che cosa manca di quella televisione di allora? Ma manca diciamo un certo rispetto dello spettatore, ecco, magari manca quella sensibilità che non ti fa andare nel volgare, ecco a Carosello questo non succedeva perché comunque arrivava la censura, la Sacis e quindi tutto pareggiava, ecco. Grazie. Grazie.